Ragazzi, è il momento che vi presento l'evento dell'anno per quello di futura corsa di Xtrema Car Speedway. È l'evento più importante a livello Andalus dell'area emiliana. Stiamo parlando della 6 ore Xtrema che si svolgerà presso il cartodromo Xtrema Car Speedway domenica 29 agosto. Chi può partecipare in questo super mega evento? Tutti i team, tutti i team da un minimo di due piloti a un massimo di otto piloti che abbiano esperienza o che non abbiano esperienza, ok? Perché ci saranno due categorie, categorie star, tutti i team con tante esperienze, categorie rookie, quelli dove o non hanno mai fatto una gara Andalus o che hanno pochissima esperienza e quindi a fine gara si premeranno, sarà un podio per ogni categoria. Questo evento si svolgerà con DecoCup CRG Renta nuovissimi, con anche segnatempo sul volante, ok? Quindi tutto controllabile, giro per giro i vostri team che segnate, ci saranno dei monitor che vi faranno vedere i team in gara e ci sarà live, servizi fotografici, servizi video, ci sarà ogni cosa per farvi rendere superstar in questo evento. Quindi il costo della gara è di 600 euro a team, sbrigatevi perché i posti stanno per finire. Ci sono solo 20 posti disponibili ancora. Per iscrivervi mandate un'email a futuracorsoechioccio.gmail.co Possono partecipare tutti i piloti, tutti i team da ogni regione d'Italia. Verranno tesserati agi, firmare un modulo anti-covid e rispettare determinate norme di sicurezza anti-covid che tutti sappiamo già. Quindi ragazzi, state pronti, domenica 29 agosto scatterà la gara più importante di Futura Corso ma la gara più importante dell'anno in generale perché sono le 6 ore extreme. La gara Endurance per eccellenza.